Erik è una vittoria importantissima, non è il caso che porti la tua firma dopo un periodo così difficile sia a livello personale con l'infortunio che ti ha tenuto fuori oltre un mese e mezzo e sia a livello di squadra perché si stava mettendo male? Sì, sono rimasto molto male perché l'ultima settimana è stato molto difficile per me, ho fatto di tutto per tornare il più presto possibile, per dare una mano alla squadra e adesso sono contentissimo che oggi ho potuto dare una mano e abbiamo vinto una partita importantissima. Dall'esterno come hai visto la squadra in questo momento e come la vedi in vista delle prossime tre partite che decideranno le sorti salvezzi? Sì, secondo me oggi abbiamo fatto meglio già nell'aspetto che stavamo facendo bene che era creare occasioni da gol, siamo arrivati di più, ancora sbagliamo troppo le scelte però già abbiamo migliorato in questo aspetto. All'indietro abbiamo un'altra partita, non abbiamo preso il gol, questo ti dà fiducia e dopo una partita così, che era come una finale per noi, fare un gol così ti dà tanta fiducia. E adesso io ho una voglia di giocare, volevo già giocare subito, quindi abbiamo già la testa, già mercoledì. Ti sei lasciato andare ad un'esultanza scatenata sotto il settore ospite, è un peccato che non ci fossero centinaia di tifosi bianconeri che sicuramente sarebbero venuti. Sì, questo gol, questa vittoria è anche per loro che non hanno potuto essere qui in questo momento, loro che girano in Italia dietro di noi e qua che siamo vicini ad Ascoli non hanno potuto venire. Io non capisco molto le regole qua, però secondo me dovranno trovare una soluzione, perché il calcio è per i tifosi e è un peccato che loro non erano qua. Però sono molto contento che oggi abbiamo regalato una vittoria molto importante, perché loro meritano di più di quello che stavamo facendo nell'ultima settimana. Il pallone ha ripensato, no? Il pallone ha rimbalzato su quel tiro di Bellucci, tiro di simpegno, ha rimbalzato. Come ti è arrivato? Ci sei arrivato tu o il pallone è arrivato addosso a te? Perché è stata costalmente veloce l'azione che almeno io non sono riuscito. Sì, sono entrato, ho portato i difensori con me e Pepe è andato indietro di me e l'è presa. Io avevo una voglia di segnare, io avevo una voglia di vincere e ho creduto e la palla è venuta da me, era invasato, è venuta da me e ho messo la testa e segnato. Sì, sarà una lotta fino alla fine. E qui, in queste situazioni, probabilmente viene indietro la posizione di morale? È avviene questa ripensità? Sì, può essere anche così, però ogni partita è diversa da altra, quindi noi, Ascoli, dobbiamo prendere questa morale che abbiamo portato oggi dopo questa vittoria per la prossima partita, perché sarà così fino alla fine. Sì, perché non riuscivamo a vincere e faceva tempo già che non vincevamo e una vittoria così contro una squadra in scontro diretto ti dà molta morale.